Grande festa all'acquario romano per la serata finale della quarta edizione degli Italia Travel Awards con la premiazione dei vincitori indicati da agenti di viaggio e viaggiatori durante sei mesi di votazione online. Momenti di spettacolo e glamour condotti da Roberta Lanfranchi con la presenza del ministro Centinaio ed un riconoscimento importante al turismo accessibile con il progetto Viaggio tra i sensi della Sardegna della Planet Viaggi Responsabili. Come hanno ricordato le ideatrici Roberta D'Amato e Danieli Gianvito, seduto in platea il vero cuore dell'industria turistica italiana per quello che si attesta ormai come il premio più prestigioso, esclusivo e ricercato nel settore dei viaggi. Tra le tante categorie da segnalare il successo degli Stati Uniti come destinazione estera preferita, con la Toscana prima meta italiana. Ma al di là di chi ha vinto sono stati tanti gli spunti per comprendere l'evoluzione del mercato turistico, in primis ormai orientato alla sostenibilità, come conferma Monette Rose, direttrice dell'ufficio italiano dell'ente del turismo delle Seychelles. Noi stiamo lavorando molto sull'ecosostenibilità in questo modo, è una cosa, il nostro punto di forza è la nostra natura. Pur avendo creato tante belle strutture, tante belle strutture di livello, Seychelles è rimasta sempre molto attaccata alla sua natura, una cosa che ora va anche di moda. Sugli scudi, perché capace anche di innovare e di rinnovarsi nell'era digitale, è il ruolo sempre imprescindibile dei tour operator. Danilo Curzi, amministratore delegato di Idee per Viaggiare. Proponiamo un prodotto di alto livello, testato, partito dal presupposto che non si vende ciò che non si conosce, destinazioni lungo raggio che fanno sognare, cercando di metterci quel qualcosa in più, tipicamente italiano, nella cura e nella gestione, per renderlo un prodotto che, come dire, si ha la presunzione di farlo diventare indelebile nel tempo. Un ruolo, quello dei tour operator, che deve innanzitutto mettere il viaggiatore a suo agio. Quirino Falessi, direttore commerciale TU Italia. Le chiavi vincenti sono sicurezza, per il cliente che viaggia con il tour operator è una garanzia, e questo penso che è l'arma vincente, perché comunque dietro il lavoro ci sono veramente anni e anni di sacrifici, di cercare destinazioni, poi anche un tour operator dà le garanzie dovute proprio come assistenza, come assicurazioni, via dicendo, cosa che in altri termini andare a prenotare la vacanza della vita, in altre situazioni può essere un pochino più rischioso. Tornando alle destinazioni, dietro agli Stati Uniti nei numeri c'è l'Asia in versione thailandese, costantemente in crescita nel giudizio e nell'apprezzamento del turista italiano. Sandro Botticelli, direttore marketing dell'ente nazionale turismo thailandese. Fortunatamente piace molto, perché siamo con quasi 300.000 arrivi dal mercato italiano, la seconda destinazione lungo raggio dopo i Stati Uniti, logicamente. Ci riconfermiamo anche quest'anno, visto che i primi quattro mesi si sono chiusi con un incremento del 3%, siamo ottimisti di portare avanti questo incremento anche per tutto l'anno e questo significherebbe un dicesimo anno di crescita consecutiva del mercato italiano verso la destinazione di Thailandia.